Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat In A Day, cosa mangi un giorno durante la mia dieta estiva. Sono tornata per farvi vedere queste ricette sane, light e fresche, quindi perfette per l'estate. Partiamo dalla colazione, facciamo insieme questi pancakes proteici ai mirtilli, sono sofficissimi e davvero buonissimi. Allora vi occorreranno 120 grammi di albumi, io sto utilizzando gli albumi pastorizzati che trovate nel reparto frigo del supermercato, 50 grammi di yogurt greco e 40 grammi di farina. Potete utilizzare la farina che preferite, avena, 0, la 1, la 00, quella che avete in casa, quella che preferite. Va benissimo anche una farina senza glutine. Ci mettiamo anche un cucchiaino di lievito in polvere per dolci e infine i mirtilli. Potete utilizzare al posto dei mirtilli altra frutta, potete anche utilizzare frutta secca oppure per esempio gocce di cioccolato, come preferite. Andiamo a cuocere i pancakes come facciamo di solito su una padella antiaderente leggermente unta per non farli attaccare, qualche minuto per lato. I nostri pancakes proteici sono pronti. Pensate, questi contengono solamente 263 calorie e ve ne vengono fuori 4-5, quindi sto parlando di 263 calorie totali, quindi non per pancakes ma per tutti e 5. E come potete vedere sono buonissimi, sono soffici e all'interno i mirtilli si sono sciolti, come se fosse una marmellata. Dovete assolutamente provarli. Passiamo al pranzo. Oggi faremo questa insalata di miglio, pomodori e cetrioli. È un pranzo leggerissimo e pensate anche senza glutine perché il miglio non contiene glutine. Si prepara in soli 10 minuti, basta aspettare la cottura del miglio. Quindi lo andiamo a cuocere come se fosse un riso in abbondante acqua, non salata perché aggiungeremo il sale in un secondo momento. E nel frattempo che il miglio si cuoce, noi iniziamo a tagliare le nostre verdure. Quindi io userò del prezzemolo, che andrò a tritare finemente, insieme poi a un cetriolo e 4-5 pomodorini. Se volete potete utilizzare altre tipologie di verdure, per esempio le zucchine, che sono buone anche da mangiare crude. Quindi una volta che il miglio poi sarà cotto, potete andarlo ad aggiungere, quando sarà freddo, al resto delle verdure e condire con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale se volete, per rendere comunque l'insalata un po' più saporita e infine il prezzemolo che abbiamo tritato. Il nostro pranzo è pronto! Passiamo allo snack, che può essere anche una colazione, ma anche un pranzo, pensate. E' facilissimo da preparare e vi occorreranno semplicemente dei sandwich integrali, della feta e una frutta a piacere. Io in questo caso avevo dei lamponi, ma questo sandwich è buonissimo anche con le fragole, con le pesche, con quei frutti molto dolci. Ecco, allora, semplicemente andiamo a ungere leggermente i nostri sandwich, perché poi li andremo a scaldare e a tostare in padella. Mettere la feta, dalla parte in cui non c'è l'olio, la sbricioliamo. Io sto utilizzando circa 20 grammi di feta in ogni sandwich e poi ci vado a mettere dentro la frutta. Vado a mettere i sandwich in padella, li faccio a tostare e il mio snack è pronto. E' uno snack, come vi dicevo, può essere una colazione, ma anche un pranzo, perché è davvero molto ricco. E' ottimo anche da portare in un picnic. E' molto particolare come gusto, quindi vi deve piacere la feta, altrimenti utilizzate un formaggio un po' più dolce. Passiamo alla cena. Faremo una sorta di tagliata. Utilizzeremo il girello, che è molto magro. Utilizzo 300 grammi per due persone, quindi 150 a testa. Lo vado a cuocere in padella, leggermente con un po' di olio e un po' di acqua. E nel frattempo vado a mettere in un piatto la rucola, un po' di noci. E infine, quando il girello sarà cotto, lo vado a posizionare al di sopra e vado a condire con un po' di pesto. Quindi non utilizzo sale, utilizzo il pesto che è comunque bello saporito. E dentro contiene anche l'olio. E questa è stata la nostra cena. Ragazzi e ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, aspetto i vostri commenti e i vostri like. Vi aspetto anche sul mio Instagram, mi trovate con il nome di Lericette di Jennifer. Ci vediamo presto in un nuovo What's I Eat In A Day. Ciao! 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 Ciao!